Sant'Andrea Bagni, 17 luglio 2020, la squadra Folgore Fornovo spegne le sue 15 candeline. La Folgore Fornovo nasce nel 2005 per volontà dei figli della gloriosa Folgore degli anni 50, la squadra parrocchiale creata da Don Magri e sostenuta da Monsignor Malpeli. La promozione in seconda categoria arriva subito nel 2008. Da allora due salvezze all'ultima giornata e poi, nelle ultime stagioni, sempre un soffio dal play-off. Dopo la positiva esperienza con mister Stefano Brianti, nella stagione post-covid, a guidare la formazione nero-arancio sarà Gianluca Rivaldi, proveniente dal Gattatico, e vice allenatore, nonché allenatore dei portieri, il mitico Matteo Guarnieri. Sei i nuovi arrivi presentati in anteprima venerdì scorso per una stagione 2020-2021 tutta da scoprire. Sono Mattia Lodi, attaccante classe 83, proveniente dall'Arsenal, Francesco Accarini, portiere classe 97, proveniente dal Fornovo Medesano, Matteo Valla, attaccante classe 91, proveniente dall'Amatori Futura, Luigi Tomasello, centrocampista, classe 90, proveniente da Medesano, Alessio Darè, difensore centrale, classe 97, svincolato dal Medesano, Marco Baratta, terzino, classe 2000, proveniente dal Fornovo Medesano. Una lunga chermesse con torta finale per coronare gli splendidi 15 anni passati con spirito sportivo e amicizia tra giocatori, dirigenti fondatori e sostenitori. Un gruppo, quello della Folgore Fornovo, che rinsalda il rapporto tra i comuni di Fornovo e Medesano nella crescita calcistica. Sono intervenuti Michele Giovanelli, sindaco di Medesano, Alessandro Tanzi, delegato allo sport del comune di Fornovo, Sandro Squerin, presidente della nuova e ambiziosa fusione tra la squadra di prima categoria Fornovo-Medesano e il settore giovanile della Futura 2015. Coinvolto, quindi, nel rapporto sportivo di qua e di là d'Altaro, anche la Folgore 2005, con giocatori provenienti dalla nuova società Fornovo-Medesano e Futura 2015. Daniele Bassi, TG Parmense